Mattia Agueli, siete nelle fasi nazionali, 3-1 con il Villasimil, uno stupendo primo tempo, l'hai sbloccato tu e poi è andato a tutto l'istro. L'avevo anche già detto in settimana, noi nonostante avessimo a disposizione anche il pareggio come con la Ferrini, noi non siamo squadra che può stare lì a aspettare, l'abbiamo vista al secondo tempo che abbiamo mollato un po' e ci hanno fatto gol. Noi dobbiamo giocare tutta la partita forte, partire per vincere, sempre più forti. Senti, si è vista la differenza di esperienza per queste pareti? Voi l'avete approcciata meglio? Non te lo so dire sinceramente, però eravamo e siamo troppo convinti di quello che vogliamo riuscire a portare a termine, nel senso riuscire a fare il salto. Per riuscirci dobbiamo provare a vincere, quindi mettercela sempre tutta e essere convinti. È l'anno buono Mattia? Vedremo tra un mese. Grazie, complimenti. Grazie.